Buongiorno a tutti e grazie per questa occasione di incontro che Maurizio Giordano mi ha sollecitato da tempo e a cui ho aderito ben volentieri perché appunto credo che il metodo con il quale abbiamo costruito la fase preparatoria poi il testo della legge approvato dalle camere e adesso nella scrittura e preparazione dei decreti legislativi adesso siamo ormai diciamo nel rush finale considerando che entro giugno devono essere emanati perché il termine come sapete del testo dei decreti devono essere approvati entro un anno dall'emanazione della legge della legge delega. Prima di inoltrarmi un momento negli specifici nel lavoro in corso dei decreti quelli che sono quello che è stato approvato quelli che sono ormai giunti diciamo ai blocchi di partenza per andare nel corsio dei ministri quelli che sono in fase di ultimazione vorrei però ricordare diciamo qual è il principio ispiratore della legge. Il principio ispiratore della legge è quello che poi ritrovate nell'articolo 1 e che di fatto segna in un certo senso una svolta dal punto di vista del legislatore del modo con cui affrontare, trattare, regolare, normare, indirizzare l'attività degli enti del terzo settore. Questo perché sapete che negli ultimi 25-30 anni il legislatore ha proceduto ordinariamente a riconoscere di volta in volta questa o quell'altra famiglia delle organizzazioni di terzo settore ad attribuire a ciascuna di questi un qualche sostegno o vantaggio fiscale a fare anche una norma diciamo con un profilo più generale come è stata la normativa la disciplina del decreto legislativo 460 del 97 ma forse non ad affrontare il modo di dare una regolazione compiuta da un punto di vista civilistico a un mondo che come sapete presenta caratteri, forme, modalità, missioni alquanto diverse. Con questa riforma il legislatore ha decisamente imboccato un'altra strada non per cancellare, abrogare quello che è stato fatto negli ultimi 25-30 anni ma con l'intento da un lato di riordinare dall'altro di innovare questo quadro normativo che si era venuto stratificando negli anni con non sempre diciamo norme tra loro coordinate a volte perfino contradditorie con una sovrabbondanza della legislazione fiscale che di fatto è diventato un po' un sostituto della carenza delle norme di carattere civilistiche. Quindi dobbiamo tenere presente che questa è stata la direttrice di marcia contenuta nella legge e anche i decreti legislativi non possono che avere diciamo questa stella polare di riferimento senza la quale è difficile diciamo così comprendere poi la razio delle singole norme. In questo senso io credo che diciamo così il tema più importante che è diciamo in corso di predisposizione anche di un testo ormai vicino al compimento almeno dal punto di vista di chi lo sta scrivendo riguarda il codice del terzo settore. La Camera ha voluto utilizzare questo termine codice a me sarebbe piaciuto meglio testo unico ma diciamo al di là dei nominalismi quello che si vuole fare attraverso il codice è appunto di dare un quadro normativo generale a tutte queste diverse realtà e non solo dal punto di vista civilistico ma anche dal punto di vista fiscale e tributario ovvero nel codice noi avremo sia la parte che ha una natura appunto civilistica e di regolazione di queste realtà così come sono state individuate dall'articolo 1 sia dal punto di vista delle conseguenti norme di carattere fiscale. in passato spesso le norme fiscali hanno diciamo sostituito o surrogato la carenza di norme civilistiche tant'è che anche nella vulgata corrente diciamo noi abbiamo fatto una onlus quando noi sappiamo che la onlus è un regime fiscale non è diciamo una natura giuridica la natura giuridica delle nostre realtà è fatta da associazioni da fondazioni da enti morali da cooperative sociali insomma da un complesso di enti che tra l'altro traversano anche dal punto di vista civilistico il libro primo in particolare ma anche il libro quinto avendo diciamo l'impresa sociale una natura in un certo senso ibrida perché può avere appunto la forma societaria pur condividendo gli elementi caratteristici di quelli che sono individuati nell'articolo 1 e quindi diciamo l'operazione che si sta tentando di fare speriamo di arrivare presto al risultato è quello appunto di dare una normativa di carattere generale tenendo conto che queste realtà possano essere ricomprese fondamentalmente in quelle tre grandi nella grande famiglia degli enti di terzo settore che diventa diciamo la qualifica civilistica che avremo nel momento in cui i decreti legislativi saranno saranno approvati e all'interno di questa diciamo perimetro più generale ben credo individuato dagli elementi caratteristici dell'articolo 1 comma 1 ovvero il fatto di essere organizzazioni private il fatto di perseguire finalità civico solidaristiche di utilità sociale il fatto di basarsi sul principio di sussidiarietà il fatto di perseguire attività di interesse generale il fatto di presentarsi nelle modi e nelle forme di realizzazione di quelle finalità e di quelle attività attraverso l'azione volontaria attraverso l'azione mutualistica attraverso l'azione imprenditoriale tutti elementi che presentano diciamo così le colorazioni diverse con cui questa realtà si presenta ecco allora che noi avremo nel codice questa nuova caratterizzazione degli enti di terzo settore e avremo nel registro unico degli enti di terzo settore l'elemento in qualche modo ordinatorio o almeno di classificatorio di queste realtà la scelta che abbiamo fatto quindi rassicuro anche l'assessore Lanzarini è che pur avendo o meglio avendo scelto la strada di avere un registro unico del mondo del terzo settore la il governo diciamo dei a livelli territoriali di questi registri sarà affidato alle regioni in quanto diciamo la realtà che già oggi è più vicina e che già in qualche modo classifica regola ordina questo mondo ma anche perché può diciamo dare una qualche unità a livelli territoriali più locali e dall'altro lato però avremo un unico diciamo così elemento di classificazione monitoraggio registrazione di questi enti perché l'accesso la presenza in questo registro sarà come dice la legge condizione per poter diciamo usufruire dei vantaggi dei sostegni dei regimi fiscali differenziati che le norme oggi prevedono o che prevederanno in forma diversificata a seguito dell'emanazione dei decreti legislativi ora non è obbligatorio per chi è chi ha una realtà associativa fondazionale insomma comunque con caratteri tipici di questo mondo di registrarsi nel registro unico del terzo settore lo può fare e rimarrà diciamo così con le caratteristiche tipiche che sono già oggi individuate dal dal codice dal codice civile e da un punto di vista fiscale da quelle che sono gli enti non commerciali se però intende diciamo così entrare in questo nuovo diciamo in questa nuova realtà che la legge ha in qualche modo individuato dovrà presentarsi diciamo attraverso questo registro e dico questo perché quello che stiamo cercando di fare è quello di mettere in relazione le caratteristiche civilistiche con le caratteristiche diciamo di di carattere fiscale tributario ovvero come ricordate nel comma 1 si dice che questi enti hanno da un lato una forma prevalente di azione volontaria con una finalità di tipo solidaristico cioè esterna al corpo associativo che lo ha generato ci sono degli altri enti con finalità di carattere civico associativo ma che riverberano l'orazione prevalentemente sul corpo associativo piuttosto che sulla comunità esterna ci sono altri enti la cui natura pur avendo magari soggettività giuridiche differenziate dall'associazione alla forza della fondazione all'ente morale all'ente ecclesiastico hanno una finalità preminente di impresa sociale cioè producono gestiscono e vendono un bene e un servizio con una finalità eminentemente di carattere sociale quindi anche le forme diciamo così tributarie saranno correlate fondamentalmente a questi caratteri in modo da far sì che le diciamo le strutture possano godere di sostegni e di elementi caratteristici proprio in base a ciò che sono nella loro diciamo finalità e nella loro missione voglio dire faccio un esempio per farmi capire sarà sensato sostenere per esempio un'organizzazione che ha una finalità di impresa, ha una caratteristica di impresa sociale sostenerla per esempio negli investimenti di capitale non sarà sensato fare la stessa cosa per diciamo così quelle che oggi sono le organizzazioni di volontariato che hanno diciamo un'altra caratteristica che si basano prevalentemente sull'azione volontaria delle persone che sono in grado di mobilitare e di aggregare quindi cercheremo di trovare una coerenza tra questi mondi e queste realtà superando anche le contraddizioni e le sovrapposizioni che oggi sono lì indicate la meritorietà nell'attività e nelle finalità dei soggetti avrà un qualche rilievo anche dal punto di vista fiscale mi spiego per farmi capire è chiaro che introdurremo anche dei criteri che oltre alle finalità dell'ente oltre all'attività di interesse generale che l'ente realizza sulla base di quello che scriveremo diciamo rispetto alle caratteristiche di queste attività di interesse generale conteranno anche per esempio i beneficiari diciamo di queste attività e dall'altro lato la piena accessibilità a queste attività che l'organizzazione realizza tutto questo perché per stare in un campo che non è il vostro per spiegarci una cosa è fare diciamo una associazione sportiva dilettantistica che ha una palestra di fitness un'altra è diciamo così fare un'associazione sportiva sempre dilettantistica magari in un quartiere difficile della città di Padova raccogliendo e offrendo un servizio di socialità e di sport positivo per i ragazzi magari che hanno elementi di disagio quindi questo dà un po' il segno della caratteristica che vogliamo introdurre secondo punto abbiamo predisposto questo il testo è già più in uno stadio avanzato direi praticamente concluso in attesa di andare in Consiglio dei Ministri abbiamo predisposto un testo intitolato sostegno alle reti associative Consiglio nazionale del terzo settore e centri di servizio di volontariato perché abbiamo voluto fare questo perché ci è sembrato utile sulla base di alcuni principi contenuti nei diversi articoli della delega di creare di dare diciamo forma riconoscimento e sostegno a una infrastruttura territoriale e nazionale delle realtà che operano nel campo che abbiamo delimità delineato nel terzo settore cioè quando noi guardiamo le statistiche dell'Istat ci accorgiamo appunto che questo mondo è molto frammentato molto articolato 301.000 organizzazioni ma forse sono anche di più perché non tutte si sono state censite perché se guardiamo quelle che erano iscritte nei registri che sempre l'Istat aveva pulito e cercato erano 476.000 però vediamo anche che queste organizzazioni sono in gran parte piccole organizzazioni con realtà diciamo così di dimensionamento in numero di soci, in numero di bilancio, in numero di volontari di dimensioni limitate. Vediamo anche che c'è una forte polarizzazione per esempio dal punto di vista economico il 4,5% degli enti censiti dall'Istat realizza l'81,5% del cosiddetto fatturato diciamo del mondo del terzo settore l'altra miriade di soggetti invece ha un'attività economica alquanto limitata cioè la dimensione economica non è l'elemento caratteristico e prioritario di questo è evidente che diciamo in questa diversificazione quello che abbiamo voluto fare attraverso sia la normativa che riguarda le reti associative sia la normativa che riguarda i centri di servizio e di avere dei catalizzatori, degli aggregatori come in qualche modo voi attraverso un'eba già lo siete nei fatti senza diciamo che la norma lo scrivesse in modo che l'attività di carattere promozionale, l'attività di monitoraggio, di assistenza, l'attività di formazione e anche l'attività diciamo così di controllo o autocontrollo possa essere svolta attraverso queste stesse reti che saranno riconosciute, certificate e cui saranno come dire la legge affiderà dei compiti ben individuati. E' evidente che questo non è un modo di, come dire, non si vuole con questa scelta violentare la realtà del terzo settore che è così diversificato nei numeri, nelle missioni, nelle personalità, nelle finalità ma piuttosto cercare per diciamo dargli un quadro più ordinato e perché tutti possano realizzare al meglio la missione che si sono date di aggregarsi, di creare diciamo così degli elementi che consentono di meglio qualificare anche la propria specifica attività e di realizzare appieno la propria missione. Questo lo svolgeranno le reti ma lo svolgeranno anche i centri di servizio che come i centri di servizio di volontariato, struttura esistente nata a seguito della legge 266 e che la norma di delega riforma l'articolo 5 in modo sostanziale sia nell'allargamento della compagine sociale sia nella diciamo finalità di promozione, di essere un agente di sviluppo dell'azione volontaria sul territorio e nelle comunità in cui esistono questi centri e ai quali oltre diciamo alle risorse che sono destinate dalla legge attraverso la rendita, una quota della rendita delle fondazioni bancarie destineremo anche una quota della dotazione finanziaria della riforma. Sapete che la riforma ha una dotazione finanziaria a livello strutturale da questo anno 2017 di 190 milioni. Le risorse dell'anno scorso le abbiamo indirizzate tutte sul tema del servizio civile che era l'unico diciamo che aveva già, era arrivato verso il termine del percorso e quindi così le risorse saranno impiegate in questo anno altrimenti sarebbero andate perse per modo di dire, sarebbero ritornate nel bilancio dello Stato. Quindi vogliamo far sì che attraverso questi aggregatori territoriali e nazionali i centri di servizio e le reti associative di secondo livello di avere diciamo una strumentazione che non sia come dire top down dall'alto al basso ma che attraverso le reti possa in qualche modo favorire e insieme la qualificazione delle attività dei servizi e anche la rappresentanza e l'interlocuzione con le istituzioni locali e nazionali. In particolare diciamo così sempre in questo decreto è disciplinato il Consiglio nazionale del terzo settore che è un nuovo organismo che va a sostituire i diversi osservatori oggi esistenti sarà un unico quindi organismo che rappresenterà come è nel disegno della legge in modo diciamo di insieme le realtà del terzo settore che diventerà il partner diciamo così istituzionale del partner delle istituzioni. In questo organismo oltre evidentemente ai mondi del terzo settore saranno presenti anche le istituzioni locali segnatamente le regioni e i comuni. Questo è diciamo il decreto sulle reti. Terzo punto il tema dell'impresa sociale. Anche qui il testo è ormai quasi compiuto e ci sono diverse novità. L'intento del decreto è quello di conseguire due scopi. Lo scopo principale è quello di favorire la nascita e lo sviluppo di forme diversificate di impresa sociale. Sapete che l'impresa sociale non è una nuova soggettività giuridica ma è una qualificazione di soggetti giuridici già presenti nel nostro ordinamento e può essere realizzata anche attraverso enti come il vostro di natura morale o ecclesiastica o associativa o fondazionale oltre che realizzata, questa è una novità della legge, nelle forme societarie diverse, non solo cooperative ma anche di altra natura, escluse le ditte, le società unipersonali. Dicevo, lo scopo principale è quello di favorire la nascita di forme di impresa sociale che sappiano organizzare in forma imprenditoriale una risposta ai tanti bisogni oggi anche non coperti in modo da far sì che quei bisogni che hanno una natura eminentemente sociale abbiano anche un soggetto che è in grado di interpretarli e di realizzare le risposte avendo sempre questo carattere. D'altra parte c'è una forte spinta anche della stessa Unione Europea su questo versante a sviluppare forme di impresa sociale non solo attraverso la forma cooperativa che è stata quella assolutamente prevalente nel nostro Paese ma anche in altre forme. Ecco allora che la possibilità che viene data anche a queste imprese di remunerare in parte il capitale sociale con una forma diciamo vincolata è un modo di facilitare gli investimenti anche di capitale in opere e in attività che richiedono non solo l'azione volontaria ma richiedono un impegno professionale e lavorativo di organizzazione di imprese ed è per questo che pensiamo di introdurre una forma anche caratteristica di sostegno alla nascita o alle imprese più recenti simile a quella che è stata sperimentata con successo nel nostro Paese delle cosiddette start-up innovative e tecnologiche che godono di un regime facilitato negli investimenti di capitale sociale. Domani, fra l'altro in quella legge ci sono già anche delle start-up a vocazione sociale sono poche, 60-70 su 6.000 di quelle start-up che sono nate domani vedremo se ci sarà un flusso di nuove imprese sociali nel senso che ho detto prima e che potranno godere se il decreto legislativo arriverà in porto nel modo con cui l'abbiamo pensato di un regime facilitato cioè ovvero se tu ti prendi dei vincoli se il tuo statuto prevede delle finalità sociali se la distribuzione degli utili è limitata se il patrimonio che generi in caso di scioglimento non puoi, diciamo così, portartelo a casa ma viene, ritorna nel complesso dell'ambito degli enti di terzo settore evidentemente diciamo c'è una ragione per sostenere lo sviluppo di questa tipologia di imprese sociali tra l'altro abbiamo previsto nella legge la possibilità anche che queste imprese possano avere nella governance societaria non solo diciamo un ente promotore di terzo settore ma anche degli enti di natura pubblica e privata purché non abbiano la maggioranza non abbiano insomma il controllo dell'ente cioè voglio dire che se per esempio come prevede la legge non so un comune ha un immobile poco valorizzato non utilizzato potrebbe entrare in società in una impresa sociale con un soggetto non profit e apportare in qualche modo una disponibilità che la legge prevede di valorizzazione di quello stesso immobile per quella finalità di imprenditorialità sociale che si intende realizzare un quarto decreto riguarda il 5 per 1000 anche qui il testo è in via di preparazione sostanzialmente pensiamo abbiamo due deleghe una è quella di rivedere i criteri di accesso al beneficio perché cosa è successo che la legge che risale al 2006 quindi a più di 10 anni fino all'anno fino al 2015 è sempre stata una legge sperimentale cioè di anno in anno non si sapeva se quella legge sarebbe stata rifinanziata e quindi le forme di regolazione della stessa legge hanno diciamo conosciuto una qualche precarietà sapete bene che dal 2015 il regime la legge ha avuto un carattere strutturale e c'è un finanziamento diciamo definito in modo permanente di 500 milioni di euro e qualora quelle risorse non vengano tutte impiegate cioè non tutte sottoscritte dalle scelte dei contribuenti le risorse vanno sempre ad alimentare quello stesso fondo ebbene adesso noi dobbiamo fare due operazioni da un lato rivedere i criteri di accesso al beneficio e questo sarà strettamente collegato all'operazione del registro del terzo settore di cui ho parlato di cui ho parlato prima e dall'altro lato vedere come diciamo così mettere mano a quelle anomalie o quelle diciamo segnalazioni che anche la stessa Corte dei Conti ha effettuato negli anni in modo da rendere il meccanismo più trasparente più rendicontabile più capaci insomma di conseguire lo scopo per cui è nato un'idea su cui stiamo ragionando peraltro un'idea non nuova perché già l'aveva formulata l'agenzia delle entrate è vedere come distribuire quel circa 15% di risorse non optate sapete che il contribuento ha due meccanismi quello di scrivere un codice fiscale quello di indicare una finalità di carattere enti di volontariato ricerca scientifica eccetera eccetera ebbene la parte dell'inoptato suggeriva già allora l'agenzia per il terzo settore preseduta dal professor Zamagni perché non attribuirla anziché in forma proporzionale a quelli che già hanno ottenuto molto perché si è realizzato il principio evangelico chi ha molto sarà dato ancora di più e chi ha poco sarà tolto anche quello che ha perché il meccanismo proporzionale faceva sì che anche quella parte di inoptato andava a incrementare i soggetti che avevano già avuto diciamo una quota rilevante perché la proporzionalità funziona così e allora l'idea riprendendo appunto quello spunto già contenuto nel documento di Zamagni è quello di redistribuire queste risorse verso i soggetti che stanno sotto una certa soglia in modo da sostenere magari le organizzazioni che hanno meno capacità di raggiungere un pubblico ampio attraverso stiamo anche vedendo le modi e le forme per esempio come regolare l'attività promozionale di pubblicità insomma ci sono diverse scelte che vogliamo fare in modo da indirizzare il più possibile diciamo questa realtà a un effettivo sostegno di organizzazioni di realtà che abbiano diciamo una forte caratterizzazione di meritorietà sociale oggi tante volte l'avete letto anche voi sui giornali ma dice ma perché date il 5 per 1000 perché lo Stato dà il 5 per 1000 all'associazione dei velisti uno dice vabbè non è un delitto mettere su un'associazione di velisti però ci si domanda se sia un'assoluta priorità nell'indirizzo di queste risorse allora se gli enti saranno meglio qualificati non solo dalla forma giuridica ma anche dalle finalità dall'attività dai beneficiari dalla piena accessibilità come ho detto prima forse avremo diciamo le modalità per indirizzare meglio questa realtà quinto decreto che non è un decreto legislativo ma è un DPR riguarda invece la fondazione Italia Sociale e l'articolo 10 della legge il testo dello statuto che avrà lo stesso iter degli altri decreti cioè dovrà andare alle commissioni parlamentari e diciamo sarà poi non un decreto legislativo ma un decreto del Presidente della Repubblica la fondazione Italia Sociale ha diciamo così è uno strumento che non sostituisce quelli esistenti ma si aggiunge sull'esempio di cose di esperienze che sono avvenute anche in altri paesi è una realtà che dovrà diciamo guadagnarsi sul terreno la capacità di orientare vorrei dire così di organizzare un fenomeno poco organizzato nel nostro paese di organizzare la filantropia in particolare di grandi realtà di impresa o di altri patrimoni familiari finalizzandoli come dice il comma 1 dell'articolo 10 a dei progetti ad alto impatto sociale e occupazionale è un'innovazione che il legislatore ha introdotto nell'ultima fase della discussione può essere una potenzialità uno strumento che non è sostitutivo tant'è che si dice che questi progetti devono essere realizzati insieme con gli enti di terzo settore quindi non sarà non saranno gestiti direttamente dalla fondazione il compito della fondazione sarà quello di mobilitare raccogliere risorse in funzione di questi progetti ultimo decreto e chiudo così magari non so se c'è uno spazio di confronto è quello invece quello che l'ho lasciato per ultimo ma è quello compiuto è quello sul servizio civile innanzitutto vorrei fare una sottolineatura che il servizio civile è stato inserito nella riforma perché lo crediamo che sia parte integrante di questa riforma per due ragioni perché il servizio civile può essere un canale importante di avvicinamento all'impegno civico e volontario dei giovani in secondo luogo perché se le organizzazioni accreditate credo che anche diversi di voi lo siano per questa realtà se investono su questo strumento su questa opportunità in un certo senso certamente investono sul progetto che questi ragazzi sono chiamati a realizzare insieme con l'ente di servizio civile ma investono anche sul loro futuro quest'anno proprio in grazia alla cosa che ho detto prima avremo risorse per circa 47-48 mila giovani è evidentemente una platea importante che se ben indirizzata può essere un potenziale di sviluppo delle attività delle missioni di questi enti associativi fondazionali o di altra natura l'obiettivo del governo avendo chiamato il servizio civile universale è quello di rispondere di sì a tutti i giovani che chiedono che domandano di fare servizio civile oggi noi negli anni passati abbiamo avuto una varianza di domande tra le 70 e le 90 mila persone quindi diciamo siamo in grado di rispondere più o meno uno su due un po' di più con le risorse di questo anno 2017 però credo avendo visto anche una serie di risultati ho cominciato a far fare delle azioni un po' di monitoraggio perché anche qui questo strumento dura da 15 anni ma non era mai stato fatto un monitoraggio dei risultati di quello che accadeva di quello che pensavano i giovani ed è interessante notare da questi monitoraggi che c'è una forte identificazione una forte soddisfazione dei ragazzi nei confronti dell'esperienza che vanno realizzando attraverso l'azione degli enti che sono accreditati a gestire formare realizzare questi progetti di servizio civile e qui vorrei dire anche ho sentito la diciamo puntura di spillo dell'assessore Lanzarin che ma intanto il decreto è stato scritto anche tenendo conto anzi recependo in modo puntuale le osservazioni della conferenza dello Stato Regioni e non mortifica in nessun modo diciamo il ruolo delle regioni semplicemente affida diciamo così a una forma di convenzione tra il Dipartimento e le regioni di realizzare una serie di compiti che sono strutturalmente in capo al Dipartimento Nazionale perché abbiamo fatto questo perché oggi ci sono regioni virtuose come il Veneto che fanno le cose bene e altre regioni ahimè che non le fanno bene e oggi non c'era nessuno strumento faccio l'esempio i controlli che sono un elemento essenziale da parte dell'attore pubblico ci sono 14 regioni su 20 che non li fanno sui progetti che hanno diciamo i posti che sono collegati alla regione quindi domani nella convenzione che faremo con la regione Veneto diremo bene la regione intende fare la formazione il controllo eccetera eccetera e saranno sicuramente diciamo così delegate alle regioni quindi il ruolo delle regioni sarà anche qui fondamentale nell'aggregazione anche dei progetti di territorio le regioni potranno presentare degli specifici progetti all'interno dei programmi di indirizzo nazionale del servizio civile e quei progetti saranno proprio diciamo così a responsabilità delle regioni quindi non vedo non credo che ci sia diciamo così nessun vulnus avendo discusso in modo puntuale anche con la conferenza avendo trovato credo le soluzioni appropriate chiudo dicendo su questo punto che ci sono anche altre due importanti novità dentro al decreto legislativo una è quella che si traduce in pratica quell'opportunità che questi giovani possano fare fino a tre mesi del loro servizio in un ente collegato gemello in un altro paese dell'Unione Europea è un modo di dare un respiro non solo territoriale locale di collegare un'esperienza nella comunità locale con una dimensione di un altro paese il secondo che la legge recepisce in modo puntuale la sentenza della Corte Costituzionale che consente di fare servizio civile anche ai cittadini non italiani sia comunitari che non comunitari purché regolarmente residenti sul territorio già oggi avendo dato un'applicazione prima in via amministrativa abbiamo un numero circa il 7-8% di giovani che non sono cittadini italiani e credo che sia uno strumento di inclusione a una cittadinanza positiva di prendersi anche delle responsabilità all'interno del paese in cui si vive infine un aspetto che è stato poco evidenziato anche nella comunicazione pubblica è che abbiamo messo una norma che spinge tra virgolette gli enti accreditati a ingaggiare dei giovani che hanno meno opportunità perché questo? Perché guardando i dati di queste ricerche di cui vi parlavo prima ci siamo resi conto che i giovani che fanno servizio civile hanno diciamo normalmente un sistema di opportunità di relazioni forse anche di vicinanza con il mondo associativo e volontario più marcato più qualificato dei giovani diciamo con meno opportunità vogliamo chiamarli net tanto per usare un termine che viene molto utilizzato e quindi ci sarà in un certo senso una premialità per quegli enti che ingaggeranno visto che la selezione come sapete l'ingaggio viene fatto dall'ente selezionano giovani che hanno meno opportunità perché oltre al servizio che questi giovani dovranno fare ci sarà anche un'attenzione ad una inclusione sociale di opportunità per giovani meno favoriti quindi credo che sia un modo anche qui positivo di utilizzare lo strumento del servizio civile per diciamo come anticorpo ai fenomeni di disagio di distanza di marginalità che riguardano il mondo giovanile bene scusate se l'ho fatta fin troppo lunga ma diciamo la materia ha una sua densità e una sua complessità e vorrei concludere con questo credo che lo spirito con cui si è lavorato sia nella preparazione che nell'aula parlamentare che adesso nella scrittura dei decreti si è sempre stato uno spirito di cooperazione possibilmente virtuosa lo dico questo perché credo che le norme poi vivano se ci sono degli attuatori che sono diciamo convinti della bontà della praticabilità dell'opportunità che quella norma si inserisce diciamo così nella vita già strutturata di molte realtà e dunque la sfida da un lato è per le istituzioni di giungere e portare a compimento questa riforma ma la sfida è anche per gli enti associativi e fondativi come i vostri che diciamo possono cogliere in questa riforma un'opportunità di cambiamento di ripensamento magari anche delle proprie forme giuridico organizzative di creazione di strumenti più adatti a trovare le risposte qualificate a dei nuovi bisogni insomma a realizzare meglio quelle finalità che poi sono l'elemento traente diciamo così di queste realtà perché se manca siccome queste realtà non nascono per un comando della legge non sono un'emanazione della istituzione pubblica non sono neanche delle realtà che hanno come finalità preeminente il profitto e dunque se quelle diciamo quelle motivazioni quelle ragioni che le hanno fatte nascere che continuano a farle vivere e che le proiettano nel futuro vengono rinforzate qualificate dalle norme io credo che lì forse sta il vero risultato della riforma grazie 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 grazie